Torniamo in Italia con la decima settimana nazionale della conciliazione delle Camere di Commercio. Ieri in un convegno a Roma le novità legislative decise dal governo in materia di mediazione obbligatoria. Susanna Alemma. Le faccio causa, una frase che italiani e imprese ripetono spesso, tanto da rientrare tra i popoli più litigiosi. Ogni anno si contano infatti quattro nuovi casi giudiziari per mille abitanti rispetto ad una media oxe della 2,5. Il decreto del fare del governo ha reintrodotto la conciliazione obbligatoria in materia civile e commerciale per evitare di moltiplicare i processi e promuovere intese tra le parti. La giustizia italiana è operata da un numero eccessivo di cause. Abbiamo bisogno di farne circuitare almeno una parte fuori dal processo. La conciliazione obbligatoria dopo la bocciatura della Corte Costituzionale torna dunque operativa seppur con qualche modifica come l'abbattimento dei costi, la durata massima del tentativo di conciliazione portato da 4 a 3 mesi, il riconoscimento degli avvocati della qualifica di mediatore. Non ci sarà invece conciliazione in materia di assicurazione. Credo che l'esperienza che abbiamo vissuto già nella prima parte di questo percorso che poi era stato stoppato ci ha dato anche dei risultati straordinari. 400 milioni di euro che sono stati in qualche modo risparmiati. E considerando poi le procedure di mediazione avviate ma non concluse il risparmio potenziale andrebbe da un minimo di 950 milioni ad un massimo di 4 miliardi di euro in termini di minori costi amministrativi e professionali per le parti in causa. Eventi, sfilate e collezioni esclusive.